Il professor Renato Lazzarin presenterà un brevissimo curriculum, è laureato in ingegneria meccanica e scienze statistiche economiche presso l'Università degli Studi di Padova dove è professore ordinario e opera anche presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali di Vicenza. È stato presidente di associazioni italiane e presidente della Commissione Internazionale dell'Istituto di Refrigerazione e di un'associazione italiana del condizionamento dell'area del riscaldamento. Ha svolto una intensissima attività pubblicistica perché leggiamo che ha prodotto circa 350 lavori sulle viste internazionali, nazionali, ha pubblicato numerosi atti di convegni, libri di carattere monografico sempre sulle tematiche dell'esparmio energetico, dell'energia rinnovabile e del condizionamento dell'aria e ha sviluppato attività di consulenza tecnico-scientifica con numerose aziende del settore. Attualmente collabora in attività di ricerca applicata a livello internazionale con programmi di ricerca europei, oltre che a livello internazionale. Ho letto il curriculum in modo abbastanza succinto perché volevo aggiungere alla presentazione quello che mi ha scritto oggi pomeriggio Maurizio Gusatta e che esprime anche dei sentimenti che credo siano condivisibili da molti di noi. Mi scrive, cara presidente, giustificandomi per non essere presente, ti prego di portare al professor Lazzarin il mio più cordiale saluto a lui e ai soci, assicurando che non appena disponibile il video lo guarderò su YouTube con grande interesse. Così cogli anche l'occasione per fare un applauso al nostro Marco. Da parte mia rimane molto vivo ed emozionante il ricordo dell'11 dicembre 2010 quando, come presidente del club, è di l'onore di consegnare al professor Lazzarin e agli altri suoi colleghi, a nome dei Rotari della provincia, lo speciale riconoscimento riservato ai docenti universitari bellunesi. Un'iniziativa che, oltre a esprimere gratitudine verso le persone coinvolte, aveva l'obiettivo, tuttora anche da te coltivato, di valorizzare i rapporti con il mondo accademico di origine bellunese, nei cui confronti i Rotari, in quanto espressione della comunità locale e della sua vitalità, è lieto di essere amico e soprattutto privilegiato interlocutore. Mai come oggi la società della conoscenza è il nostro valore primario. Salutoni sinceri, buon lavoro, buona serata, Maurizio. Credo che questo, oltre che un saluto, sia proprio da considerare quasi un manifesto che molti di noi condividono. Il professore aprirà l'intervento con una rapidissima rassegna delle problematiche a livello globale dell'impiego dell'energia, con particolare riferimento alla sostenibilità. Gran parte dell'intervento verterà poi sui contributi che l'innovazione tecnologica può offrire alla sostenibilità, citando due realizzazioni reali di impianti in provincia di Belluno, con forte riduzione dei fabbisogni energetici e che il relatore ha seguito personalmente. Il primo è stato realizzato nel corso del passato decennio con ottimi risultati e il secondo è finalmente in fase realizzativa. Il finalmente è legato al fatto che il progetto è stato ideato oltre tre anni fa per la provincia e si concretizzerà forse nel prossimo anno. Bene, con questa brevissima presentazione dei contenuti e salutando anche gli altri soci che sono entranti nel frattempo do la parola a professor Lazzarini. Nel 2000, con la dichiarazione del millennio, le Nazioni Unite si sono impegnate a raggiungere otto obiettivi concreti entro quindici anni. Uno di questi obiettivi è la sostenibilità ambientale. Sostenibilità significa soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future. Vuol dire opporsi all'esaurimento delle risorse naturali e diminuire l'impatto sull'ambiente, riducendo le emissioni di CO2 e di gas serra. Bene, allora ritorniamo a quella definizione che ci è stata lasciata alla fine del breve filmato e diciamo subito che la sostenibilità va ricercata in ambiti diversi. Per capirci c'è una sostenibilità ambientale, cioè dobbiamo fare in modo che si preservi la funzione dell'ambiente fornitore di risorse, ricettore di rifiuti, fonte direte ad utilità, ma c'è anche una sostenibilità economica, cioè la capacità di generare reddito e lavoro per le popolazioni in tempi lunghi, per maniera duratura. C'è una sostenibilità sociale, cioè la capacità di garantire condizioni di benessere, sicurezza e salute equamente distribuite per tutti. Allora qui il problema è che ciò che è sostenibile in un ambito non è detto che lo sia in altri. Facciamo qualche esempio. Allora, forse alcuni di voi hanno una seconda casa e sapranno benissimo cosa sono gli oneri di sistema. Ora immaginate che gli oneri di sistema sulla bolletta elettrica vengano aumentati del 500%. Allora è sostenibile economicamente? Probabilmente sì, pagheremo il doppio o il triplo bolletta elettrica, però socialmente ritengo di no. Vogliamo fare un altro esempio? Immaginiamo di aumentare l'imposta fiscale sulla benzina e sul diesel di 50 centesimi al litro. Allora, dal punto di vista ambientale potrebbe essere sostenibile perché la gente consumerà meno benzina, però dal punto di vista economico forse no perché gli introiti dello Stato diminuiranno. Se ricordate ai tempi di Monti, questo aumento della benzina fece diminuire anziché aumentare gli introiti. Ultimo esempio. Facciamo un reddito di cittadinanza di 2.000 euro al mese per ogni persona disoccupata o sottooccupata. Sostenibile socialmente, forse, ma probabilmente non economicamente. Allora, per capirci, noi dobbiamo riuscire a contemperare questi ambiti che ho appena descritto e non è una cosa semplice. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare per avere uno sviluppo sostenibile. Dobbiamo fare un'interconnessione completa tra economia, società e ambiente. Ora capite da questo grafico che se dovessi entrare nel merito di tutte queste questioni non basterebbero dieci serate. Allora, ci accontentiamo di una piccola parte di queste, cioè quella relativa alla riduzione dei consumi energetici e quella relativa alla riduzione delle emissioni di CO2. Allora, prima cosa che dobbiamo tenere presente è quale sia la situazione dell'energia a livello mondiale. Allora, dati 2019, quanto combustibile viene consumato? Allora, vi do dei numeri. 95 milioni di barilli di petrolio al giorno, 11 miliardi di metri cubi di gas naturale al giorno, 17 milioni di tonnellate di carbone al giorno. Allora, noi normalmente nel campo energetico cerchiamo di portare tutta una stessa unità di misura che sono i barilli di petrolio equivalente. Tutto questo equivale a 247 milioni di barilli di petrolio al giorno. Eccoli qua. Allora, questa che vedete qui vuole essere la sezione di una piscina olimpionica. Vi ricordo, è lunga 50 metri, è larga 25 metri, mediamente profonda a 2 metri. Ecco, come avete visto, viene consumato ogni 5 secondi. Quindi noi possiamo dire che a livello mondiale il consumo di petrolio è di 16 mila piscine olimpioniche al giorno. Allora, facciamoci un'altra domanda. Quanta energia è impiegata fino ad oggi l'umanità. Allora, vi do una risposta probabile. 400 gigatep, che sono miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio, di cui 300 di combustibili fossili. Un terzo di questo consumo è intervenuto negli ultimi dieci anni. Ma quello che è peggio è che, se noi facciamo una previsione, i prossimi 100 gigatep se li hanno consumati in otto anni. Quindi c'è un'accelerazione importante nell'incremento dei consumi. Allora, quando noi parliamo di 300 gigatep, noi con linguaggio matematico, tecnico, diciamo che sono 3 per 10 alle 11 tonnellate qui a lenti di petrolio. Purtroppo questa notazione matematica non permette di apprezzare quant'è grande questa quantità. Allora, cerchiamo di apprezzarla e ci domandiamo qual è il più grande lago in Italia. Io ho fatto una conferenza qualche anno fa a Parigi e ho fatto questa domanda. Provate a indovinare cosa mi ha risposto. Il lago maggiore. Noi invece sappiamo che è il lago di Garda. Ora qui vi do alcuni dati relativi al lago di Garda, ma insomma lo conoscete tutti e ahimè immaginate che questo sia pieno di petrolio. Allora, con 6 laghi di Garda riusciamo a avere quel valore di 300 gigatep. Allora, se vogliamo dire in termini figurati qual è la problematica più grossa che dobbiamo affrontare nelle questioni energetiche, direi che si divide in due domande. La prima, quanti laghi di Garda pieni di petrolio o altre risorse fossili abbiamo ancora disponibili per bruciarli. La seconda, quanti laghi di Garda possono essere bruciati senza un danno ambientale irreversibile? Eh, domande mica da poco. Allora, vediamo un po' che previsioni possiamo fare intanto sulla fabbisogno energetico. Allora, nessuno ha la sfera di cristallo, si procede per elementi collegati al fabbisogno energetico. Allora, per esempio, gli autoveicoli. Perché normalmente se uno acquista un'automobile non è per metterla in salotto e stare in contemplazione ma per usarla. Questo è già un grafico interessante perché mostra la produzione anno di autoveicoli nel periodo 99-2012 suddivisa per paesi. Allora, da un lato qua ci sono i milioni di automobili prodotte all'anno, di qui ci sono i milioni di barili al giorno di combustibile necessario per farle andare. Qui si scopre, per esempio, che i grandi produttori automobili, ma forse lo sapevamo, sono il Giappone, ma anche la Cina, con valori che sono assolutamente incredibili e saranno un po' una costante nelle varie analisi che vi proporrò. La Cina è il soggetto dirompente degli ultimi 15 anni. Allora, che aumento ci aspettiamo? Allora, un'indicazione è quanti automobili ci sono ogni mila abitanti. Qua c'è la storia dal grosso modo del 2012 con la previsione verso il 2040. Questi sono i paesi industrializzati e vedete bene che siamo praticamente a saturazione. C'è quasi un'automobile per persona, quindi c'è una ridotta possibilità che l'aumento sia rilevante. Mentre l'aumento rilevante ce l'aspettiamo dalla Cina e ce l'aspettiamo dai paesi non industrializzati, ma insomma Cina, India e altri paesi. E che, badate bene, che non è il fatto solo di quanti automobili per mille abitanti, ma quanti abitanti sono. Per cui si parla di un miliardo di persone, quindi numeri veramente impressionanti. E qui ci sono altre previsioni, sia sull'aumento del numero di veicoli, quindi quanti milioni di veicoli ci aspettiamo da qui al 2035, dove l'aumento, vedete, sono i paesi, diciamo, non del gruppo industrializzato, dove un qualche beneficio può venire dal fatto che queste automobili consumeranno meno. Infatti qui è molto interessante notare il tipico consumo per 100 km degli veicoli americani, 1975, dove era normale che consumassero anche 20 litri per 100 km, poi qui ci si aspetta che le situazioni migliorino, però la riduzione non compensa il numero di veicoli, per cui quello che ci si aspetta è che ci sia un aumento molto forte di domanda di combustibili per far funzionare questi veicoli. Quindi questo è un primo elemento. Un secondo elemento, forse ancora più grave, è quello relativo all'aumento della popolazione. Allora, qui abbiamo una prima stima, ve ne fornirò alcune di fonti diverse, ma sono tutte abbastanza concordi. Allora, dal 2010 al 2050, qui si parla dell'aumento della popolazione in varie zone del mondo e in particolare quella che salta all'occhio, quello dell'Africa, dove si pensa ad un aumento del 132% in questo periodo. Ora, il concetto è che nella crescita demografica ci sono dei grossi errori di valutazione, perché c'è la conoscenza del periodo di cosiddetta transizione demografica. La transizione demografica qual è? E' quella che mio bisnonno aveva 13 figli, poi il suo figlio ne aveva 3 e poi il suo figlio ne aveva 2. Allora, quanto tempo ci vuole per questa transizione demografica? Beh, per l'Italia ci sono venuti parecchi decenni. Per il Sud America, per esempio, sono bastati meno di 20 anni. Come mai? E si dice che sia merito delle telenovelas. Cioè, le telenovelas mostrano un'immagine di una famiglia che al massimo ha 2-3 figli e alla fine questo è stato decisivo. Questo però non è certamente possibile, o comunque è ben difficile, in paesi dove le telenovelas non possono essere trasmesse. E il problema grosso, lo vedete già da questo grafico, che va a proiettarsi addirittura al 2100, è quello dell'Africa. Vediamo qui, queste sono le previsioni 2015-2100. Allora, certamente, da un lato, paesi Europa, America Latina, Nord America, prevedono o un piccolo aumento o addirittura una piccola riduzione. L'Asia, un aumento, ma non così consistente, e il problema grosso è l'Africa. Qua si parla di arrivare a 4 miliardi di abitanti, partendo da un attuale poco più di un miliardo. Allora, perché la cosa è preoccupante? Ma perché ogni persona, si parla di solito del consumo pro capite, quindi ogni persona è tesa a consumare energia. Qui ci sono altre previsioni che riguardano i paesi industrializzati, che più o meno dovrebbero stabilizzarsi nell'arco di tempo che va al 2040, e il resto del mondo, che invece vede un aumento, la Cina lo ha già visto, questo aumento continua a proseguire in quella direzione. Allora, se noi dobbiamo fare una previsione complessiva che è rappresentata qui, vediamo che ci muoviamo in un incremento che passa dal 1970 ai vari anni, quindi sono tutti dati a consuntivo, e con i dati di previsione che sono questi, che vedono certamente una miscela di diverse fonti energetiche, per cui ci si aspetta, per esempio, che il petrolio riduca la sua presenza quanto meno percentuale, il gas aumenti la sua presenza, il carbone abbia un andamento oscillatorio, forse con una certa riduzione più avanti nel tempo, e poi ci sia la rinnovabili, le rinnovabili che diano un contributo sicuramente significativo, anche se non ancora paragonabile a quello presente del gas. E quindi, vediamo un po' cosa ci dobbiamo aspettare nei varie zone geografiche del mondo, da qui al 2040, mi pare che è qui, scusate, devo togliere questo, torno indietro un passo. Allora, Giappone è chiaramente dipendente totalmente da importazioni di gas e di petrolio. Lo era allora e lo sarà anche in futuro. Però vedete che già l'Unione Europea, da una situazione in cui l'importazione di petrolio dell'ordine dell'82-83% va verso superare il 90%, e così dal gas, che inizialmente è al 60%, questi sono dati a consuntivo, dati attuali, si proietta oltre l'80%. La Cina, peggio che peggio, la Cina addirittura sia col gas che col petrolio, passa da una situazione in cui, soprattutto per il gas, ha un'importazione ridotta a valori rilevanti. L'unica eccezione sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, sapete, che hanno fatto un ampio ricorso al petrolio non convenzionale e al gas non convenzionale, il cosiddetto shale gas e shale oil, e arriva al punto di una previsione di una certa esportazione di gas e comunque una ridotta importazione di petrolio. C'è da dire che questi petrolio e questo gas non convenzionale dal punto di vista ambientale non sono certo una scelta molto felice. Altro dato, produzione di energia elettrica per via termoelettrica. Vediamo che qua la Cina la fa da padrone, periodo 2010-2035 prevedono un aumento anno di produzione elettrica che è veramente impressionante. Per darvi le ordini di idea, questi sono terawattora, sono 6.000 terawattora, vuol dire 20 volte la produzione italiana annuale. E come le producono i cinesi? Producono con tutto quello che hanno a disposizione. Carbone, quindi un aumento consistente dell'uso del carbone, del gas, del nucleare e perché no anche delle rinnovabili. L'India si muove, diciamo, qualche passo qui indietro nella stessa direzione. Altri paesi, Stati Uniti, vedete che hanno una riduzione nell'uso del carbone come anche l'Unione Europea e l'Unione Europea vede anche una riduzione dell'uso nucleare così come il Giappone, dopo aver preso lo spavento di Fukushima, insomma si sta pensando bene di proseguire su quella strada. Quindi queste sono le situazioni e per cui, ecco, quello che volevo dire, quello che dobbiamo aspettare nel corso dei prossimi 15 anni è un aumento importante della domanda di energia su cui si può intervenire con politiche attive che possono mitigare questo aumento di domanda. Quindi si va da valori che sono dell'ordine di 17 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio a valori che potrebbero essere di 15 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio comunque con valori che sono in crescita. Quindi c'è questo aspetto da tenere presente, una crescita della domanda di energia primaria molto significativa. Allora, qualcuno può trovare, come dire, tranquillizzante un grafico come questo. Questo è stato fatto dopo le crisi energetiche della fine del secolo scorso mettendo a confronto la riserve provate di petrolio con la produzione annua e scoprendo con grande sorpresa che più o meno questo rapporto che in realtà dice poco se non in maniera suggestiva vorrebbe dire quanti anni ne abbiamo ancora per poter utilizzare questa risorsa e si scopre che ne abbiamo sempre per 60 anni. Cosa è sorprendente, no? Perché la risorsa è finita quindi noi ci aspettiamo una risorsa finita ma man mano che ne togliamo vada diminuendo. Invece resta costante e uno potrebbe essere tranquillizzato da questo fatto. In realtà, se noi andiamo a vedere invece come vanno le scoperte di grandi giacimenti petroliferi qui c'è l'andimento dei giant fields di petrolio e di gas si scopre che abbiamo toccato le picchi nel periodo grosso modo verso la fine del secolo scorso e adesso stiamo andando in diminuzione. Allora, come mai le risorse stanno aumentando? E qui è merito della tecnologia cioè i giacimenti sono sfruttati meglio. Nel passato si utilizzava sì e no il 40% del petrolio che c'è nel giacimento adesso si arriva anche all'80% migliorando anche le tecniche di ricerca. Tuttavia resta il fatto qui ho i volumi stimati più recentemente in un miliardo di barili petrolio e gas scoperti nel corso degli ultimi anni qui si va al 2018-2019 e si vede che questo effettivamente è in diminuzione. quindi tutto sommato quel detto Veneto che dice cava cava ma i metti si diventa poveretti forse in qualche maniera è verificato. Quindi c'è un problema da tenere presente. Allora, c'è un altro aspetto da tenere presente che potrò trattare molto rapidamente che è quello dell'inquinamento ambientale. Allora, noi parliamo solo di gas serra. In realtà c'è un inquinamento chiamiamolo locale ma locale su ampia scala. pensate l'atmosfera di Pechino con la gente che si trova a respirare un'aria super inquinata su un'aria ampia. Ebbene l'inquinamento locale scusate può chiudere il microfono può chiudere i composti dello zolfo gli ossidi di azoto l'ossido di carbonio particolato. Allora, perché vi propongo questa tabella? Allora, questa tabella mostra alcune regioni geografiche in Nord America paesi industrializzati europei Giappone e il resto del mondo e dice qual è la percentuale a 100 dei consumi di energia primaria in queste regioni. Allora, se tutte avessero gli stessi livelli di inquinamento dovreste leggere le stesse percentuali su queste colonne qui. Invece trovate percentuali molto molto diverse. Allora, per esempio, il resto del mondo che consuma grossomodo il 46,6% di energia primaria ha il 77% in particolato. come mai? Perché per esempio usa l'olio pesante oppure oli con grosso contenuto di zolfo quindi ci sono queste percentuali. Altri paesi utilizzano combustibili meno inquinanti per esempio paesi europei per cui il valore del particolato è certamente più basso percentualmente a questo 17-8% benché il valore degli ossidi di azoto sia più alto probabilmente per il traffico che è automobilistico. Tuttavia se noi andiamo a vedere il Giappone che all'epoca di questa tabella aveva già fatto delle politiche ambientali abbastanza importanti sopriamo che tutte le percentuali sono notevolmente più basse di qualunque inquinante si tratti quindi si può fare molto da questo punto di vista per ridurre le problematiche di inquinamento ambientale anche consumando energia tradizionale questo va tenuto presente. Allora qui il problema è come possiamo mantenere o addirittura aumentare in un contesto come questo livello di beni e servizi per una frazione della popolazione mondiale che sta crescendo. Allora è un po' il nocciolo di quello che vi dirò nella prossima diciamo mezz'ora e cioè l'innovazione tecnologica che non è la panacea di tutti i mali e potrà essere di aiuto non da sola ma potrà dare un aiuto importante. Allora vediamo in termini di esempi come si può avere dall'utilizzazione delle innovazioni tecnologiche si possono avere dei buoni risultati e vi propongo alcuni settori che conoscete probabilmente tutti quello degli elettrodomestici computer l'illuminazione riscaldamento e condizionamento degli edifici produzione di energia elettrica allora vediamo gli elettrodomestici allora che dire sapete tutti della direttiva europea che ha stabilito l'etichetta energetica agli elettrodomestici si è partiti nel 98 si è andati avanti il 2003 in realtà le classificazioni partivano dalla lettera A come scritto qui e andavano giù verso la lettera E mi pare F o G come nel racconto dei piani di buzzati dei sette piani di buzzati ma sostanzialmente cosa è successo che i costruttori si sono riliconto che potevano migliorare notevolmente le prestazioni dei prodotti ormai le classi sotto B non si trova neanche a cercarle con l'anternino e ci sono le classi A più A più più e A più 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 addirittura con che risultati allora lavastoviglie tipica vediamo cosa succede con la classe A più 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 vedete che il consumo è meno di 231 kilowattora all'anno e se noi la confrontiamo con le altre classi abbiamo un risparmio che io qua non riesco a leggere ma dovrebbe essere del 44% scusate che mi apro anche di qua la tabella 42% lavatrici eccola qui andiamo a vedere dalla classe D alla classe A più 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 abbiamo un risparmio del 44% finiamo con i frigoriferi poi vado con altri elettrodomestici frigoriferi eccoli qua abbiamo dalla classe D alla classe A più 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 un risparmio del 77% e badate che qui non ci sono tante grandi innovazioni tecnologiche si è provveduto solo per i frigoriferi a fare dell'isolamento e a migliorare i motori elettrici per le lavatrici migliorare i cicli e via dicendo però i risultati come capite bene sono tangibili importanti passiamo il computer allora qualcuno ricorderà che fino a pochi anni fa il classico monitor era quello a radio cattolici era anche i televisori allora sono delle apparecchiature che sono energivore tipicamente mettiamo che abbiamo consumo di 150 watt quindi 300 kilowattora all'anno poi la spinta dei costruttori per realizzare i notebook portatili quindi abbiamo bisogno di lavorare con delle batterie ha portato allo sviluppo dei cristalli liquidi tipicamente il consumo può essere 20 watt ma ormai è certamente anche meno di questo consumo quindi scende a 44 kilowattora all'anno e quindi il risultato è lo stesso un risparmio notevole 85% poi passiamo all'unità di elaborazione centrale central processing unit allora qui vi mostro un oggetto che quelli della mia generazione conoscono troppo bene il famoso chip intel 8086 che era un miracolo della tecnologia forse qualcuno di voi ha avuto il computer m24 e ricorderà che c'era una ditta che si chiama e si chiamava Olivetti che era all'avanguardia nel mondo nella produzione di personal computer l'm24 aveva appunto questo chip 8086 che conteneva metto fra virgolette appena 29.000 transistor e operava con una velocità di clock una frequenza di clock di 5 megahertz consumando 7 watt ecco lo ricordo volentieri questo fatto perché Olivetti ha ditta fantastica all'epoca e se volete vi racconto un aneddoto a un certo punto a Ivrea andò a bussare alla porta degli Olivetti un personaggio con una proposta importante per fare questa proposta si era indebitato per far pagarsi il viaggio dalla California a Ivrea e fu messo alla porta questo personaggio si chiamava Bill Gates e stava proponendo ad Olivetti il DOS che poi prese l'IBM ecco questo è un aneddoto che racconta anche come certa imprenditoria italiana non abbia lavorato molto bene all'epoca il padrone dell'Olivetti forse sapete era Carlo De Benedetti questo invece è quello che conosco più di recente il processore Pentium 4 e allora fate il confronto 55 milioni di transistor opera a un clock a 306 gigahertz badate non megahertz quindi la velocità di clock 600 volte più elevata e consuma 7 volte di più quindi è un progresso notevole ma io qui mi sono fermato perché se noi andassimo a vedere questo grafico tu pensi che io mi sono fermato il 2010 grosso modo poi si è andati avanti e c'è stato un aumento che però vi invito a osservare questa scala che è logaritmica non è una scala come si dice lineare cioè quando io qui passo da questo valore al valore doppio in realtà il valore aumenta di di 100 volte ci passa da 55 milioni a miliardi ecco questo è l'andamento del numero di transistor sui circuiti integrati quindi un progresso tecnologico straordinario che ci fa pagare parlare fra di noi così facilmente passiamo all'illuminazione artificiale allora l'illuminazione artificiale richiede una grandezza che non vi sto a spiegare che cosa sia è un prodotto è un rapporto fra flusso luminoso lumen e l'energia elettrica che serve a produrlo quello che può interessare è il confronto cioè questo numero è chiaro che quanto più alto è tanto meglio vanno le cose quindi ci servirà solo di confronto senza sapere con precisione che cosa sia questo rapporto allora come sapete la luce artificiale si produce sfruttando tre diversi fenomeni fisici il primo riscaldamento di resistenza percorsa da corrente è la lampada incandescenza il secondo è arco elettrico su un gas di composizione particolare lampada scarica di gas il terzo è quello più recente è light emission dead cioè l'emissione a stato solido con risultati che sono già riassunti qui allora se voi andate a vedere questa tabella praticamente vi dice che ottenete lo stesso risultato con il 15% di consumo energetico rispetto alla lampada di incandescenza per carità quella scarica di gas funziona molto bene però è al 25% poi un altro dato che va considerato è la vita media che qui è molto lunga mentre invece è breve sulle lampade di incandescenza chi di noi non ha dovuto sostituire una lampada bruciata sappiamo quanto poco durano e qui possiamo vederlo con più dettaglio con quella grandezza che vi ho detto allora questo Edison è un grande inventore no? è quello che diceva che in un genio il genio deriva l'1% da ispirazione 99% da traspirazione nel senso che lui quando si è messo con questa scoperta della lampada a incandescenza ci ha messo qualcosa come 15 anni sostituendo le fibre vegetali che usava di varie specie vegetali alla fine col tunsteno è arrivato a 4 lumen watt oggi si arriva a 18 lumen watt quindi c'è stato un certo miglioramento il limite però voglio dire fisico di questo principio sono i 52 lumen watt quando la temperatura della resistenza arriva alla fusione di tunsteno quindi sopra di questa non può andare vita media 1000 ore lampada alogena ha un piccolo miglioramento quanto meno nella vita media 2000 ore quindi questa è la situazione dell'incandescenza la situazione delle scariche di gas 85 vi ricordo che prima eravamo a 18 quindi 85 lumen watt vita media 8000 ore e in alcuni casi si arriva anche a 20.000 ore di vita media con 95 lumen watt l'el luminoso ecco l'el luminoso è una cosa fantastica perché se voi pensate lo sto dicendo in termini molto grossolani ma forse suggestivi la cella solare cosa fa? prende la luce del sole e la trasforma in energia elettrica il l'el luminoso prende l'energia elettrica e la trasforma in luce efficienza luminosa 100 lumen watt vita utile badate bene 50 100.000 ore eccolo qua e quindi se noi facciamo un confronto con un led da 10 watt sostituiamo delle lampade che hanno rispettivamente 100 watt per quanto riguarda l'incandescenza e 30 watt per la lampada scarica di gas e qui c'è il progresso nel corso degli anni vedete l'incandescenza è rimasta ferma al palo e chi è migliorato sono le lampade fluorescenti ma poi c'è stato il proprio violento incremento delle lampade a led io ricordo facevo delle lezioni di luminotecnica nei primi anni 2000 e le presentavo come un qualcosa da cui interessarsi ma scusate che commercialmente non avevano molto spazio generatore di calore questo è un tema che forse interessa molti perché tutti abbiamo la nostra caldaia o la caldaietta murale ora che storia hanno avuto queste caldaie prima del 91 questo era l'andamento io buttavo dentro 100 di energia e stagionalmente mi restava 62 perché c'era tutta una serie di perdite che facevano sì che sostanzialmente il 40% del gas che buttavo dentro era come se se ne uscisse direttamente per la canna fumaria poi si è passati con la legge 1091 le caldaie alto rendimento le cose sono migliorate ma non in maniera così decisiva si è passati al 76% quindi ancora un quarto dell'energia del gas se ne va per il camino notare che tuttora questa tipologia di caldaia è quella più diffusa non solo nell'esistente ma anche in molti casi nella sostituzione caldaia moderna è una caldaia ad aria soffiata modulante premiscelata le cose migliorano certamente perché si va a un rendimento medio stagionale dell'88% però ancora un 12% lo buttiamo via che non è poco dove andiamo a parare alla fine è la caldaia condensazione la caldaia condensazione finalmente raschia tutta l'energia del gas sfruttando l'armodinamica cioè si arriva sostanzialmente a un rendimento stagionale del 96% o più e addirittura si parla in alcuni casi del 106% facendosi passare per bugiardi perché uno dice come è possibile 106% cioè più del 100% non è vero in realtà noi il rendimento lo riferiamo al potere calorifico inferiore non consideriamo minimamente che ci possa essere questo effetto di condensazione che c'è nelle caldaia condensazione è un ritrovato recente della caldaia condensazione allora permettetemi una breve citazione vedete questo libro recaldaia condensazione della teoria agli impianti 1986 quindi certe innovazioni si potevano fare già da un bel pezzo domanda si può far meglio della caldaia condensazione e certo si può fare meglio con la pompa di calore con la pompa di calore noi in realtà cosa facciamo facciamo un'operazione in cui valorizziamo dell'energia di basso livello termico che per noi ha pochissimo valore o nessuno per il riscaldamento e la nobilitiamo con un certo input di energia elettrica per capirci io butto uno di energia elettrica e ottengo 3-4 di energia termica quindi siamo un oggetto miracoloso anche questo è una grande innovazione del recente scusate mi cito ancora questo libro intervista sulle pompe di calore 1982 quindi si poteva fare interventi molto molto tempo prima andiamo adesso riscaldamento e condizionamento degli edifici allora il punto di partenza è un punto di partenza veramente mediocre eccolo qua edificio anni 50-80 praticamente privo di isolamento termico allora cerchiamo di capire cosa vuol dire questa cifra si dice quella è l'energia che serve per il riscaldamento in un anno di un metro quadrato di superficie abitata quindi è chiaramente un valore che dà un ordine di grandezza ed è quello tipico appunto degli edifici di questo periodo ora quando è che le cose migliorano un po' beh con la prima legge sull'isolamento termico che però in realtà verrà applicata solo qualche anno dopo si scende a 170 poi un'ulteriore legge è la legge 10 del 1991 si scende a 140 oggi come oggi un edificio convenzionale recente va fra i 100 e i 150 però si può fare decisamente meglio guardate qui se noi passiamo dall'edificio mediamente isolato che come dicevo all'ordine di 100 qui questo dato è per i tedeschi loro usano il gasolio per il riscaldamento mettono litri di gasolio per metro quadrato anno ma è la stessa cosa ma vedete che una casa ben isolata scende addirittura fra 30 e 50 e poi c'è la cosiddetta passive house cioè una realizzazione molto ben isolata che scende addirittura a 15 attiro la vostra attenzione che dai 140 ai 15 c'è un rapporto di 10 cioè riduzione di 10 volte e in effetti se voi fate una termografia di un edificio normale questo è quello che ricavate è un colabrodo cioè dove vedete quei colori rosso vivo e sono tutte perdite termiche eccole qua e per esempio le terrazze sono terribili da questo punto di vista sono come delle allettature in un sistema di raffreddamento allora andiamo a vedere che cosa si può fare questo è un bel esempio con un tecnico che ti dette di casa passiva fatto a Francoforte edificio degli anni 60 poco o nulla isolato questa è la termografia vedete un colabrodo e richiede per ogni anno quanti barilli di gasolio perché in Germania come sapete usano il gasolio come dicevo prima ne devo mettere ancora 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 allora a questo punto si è stata fatta una riqualificazione con isolamento ben realizzato con impianti termici moderni il risultato è quello che vedete qui la termografia è quella che vedete qui e cosa scoprite che i tedeschi non usano le tapparelle loro amano avere tutta la luce disponibile quindi ecco che vedete le finestre ma per il resto il risultato è particolarmente buono vediamo quanto gasolio serve adesso sì ancora sì ancora fine quindi questa riqualificazione ha fatto risparmiare l'87% allora l'80% degli edifici esistenti oggi saranno ancora per attività del 2040 quindi sono belle queste realizzazioni di Passive House ma probabilmente sarebbe efficace ridurre le perdite negli edifici esistenti piuttosto che fare pochi edifici con standard energetici elevatissimi comunque con due Passive House qui c'è un confronto fra un vecchio edificio un nuovo edificio un edificio ben isolato e la Passive House cosa scopriamo? beh intanto una riduzione drastica nella domanda di riscaldamento che è questo rettangolo qui che si riduce praticamente a valori molto bassi la domanda di acqua sanitaria resta uguale cioè anche negli edifici ben isolati ci si lava ugualmente dice nella Passive House non ci si lava no si fanno dei recuperi quindi si fanno dei recuperi energetici sull'acqua scaricata e inoltre negli edifici ben isolati nel Passive House si trova un'altra voce di spesa che è energia elettrica per la ventilazione cioè utilizzano la ventilazione meccanica controllata in maniera tale da recuperare energia sia d'estate che d'inverno nel ricambio d'aria e quindi questo è l'andamento che si spera che progressivamente si riesca a seguire allora vediamo avevo promesso due realizzazioni vediamo la più antica quella di una decina di anni fa che è stata realizzata ad Agordo il polo scolastico di Agordo chi passa per andare poi su nella strada a Gordina probabilmente lo vede facilmente eccolo qua allora come è fatto è un po' un po' un po' la mia fissazione quella della pompa di calore dice lì dual source allora che cosa vuol dire vuol dire che la pompa di calore l'energia la deve prendere da qualche parte per poterla valorizzare la prende dal terreno e la prende da collettori solari quindi ci sono dei collettori solari quando questi non ce la fanno produrre energia a una temperatura adatta all'uso diretto forniscono energia alla pompa di calore che ci penserà a valorizzare poi la pompa di calore è una pompa di calore assorbimento non sto a entrare in dettagli altrimenti finiamo tardissimo vi do solo i risultati che sono a consuntivo tenete conto che l'edificio a 5.700 metri quadrati superficie riscaldata e 21.000 metri cubi di volume riscaldato vi dico subito che il merito del risultato non è solo dell'impianto perché? perché l'edificio è stato isolato molto bene in maniera molto accurata ed ecco il risultato consumo di metano annuale per il 2014 16.500 metri cubi per darvi l'idea quanto consuma in Piannaura un condominio di 10 appartamenti il risultato diciamo è circa 10 volte meno di quello che avrebbe consumato in una realizzazione normale e siamo in montagna come ben sapete andiamo avanti produzione di energia elettrica o energia meccanica allora quando noi utilizziamo l'energia chimica di un combustibile per produrre energia meccanica normalmente facciamo una combustione la combustione produce calore e una parte di questo calore va dissipato verso l'ambiente quindi va perduto per cui ecco che la cogenerazione può dare un vantaggio la cogenerazione significa che io non solo produco l'energia elettrica ma sfrutto una parte del calore che altrimenti andrebbe dissipato qui c'è un confronto in cui ho un'eguale produzione di energia elettrica e di calore da un sistema cosiddetto separato quindi 35 unità di energia elettrica 50 di calore e quello che mi serve per fare questa operazione è 140 qui invece faccio la stessa cosa con cogenerazione quello che mi serve per fare questa duplice produzione è 100 quindi risparmio 28% di energia primaria e probabilmente con sistemi moderni anche di più questo vale per un piccolo impianto se noi andiamo a vedere l'andamento di conversione dell'energia nel corso degli ultimi 50 anni qui abbiamo le grandi centrali a vapore che sono quelle che hanno fornito energia termoelettrica nel corso degli ultimi decenni che vedete si sono schiodate poco da un rendimento del 40% e qui invece vediamo i cicli combinati che sono andati in crescita sempre più forte adesso diciamo che arrivano al 58% di rendimento di trasformazione da energia del combustibile a energia elettrica non voglio spaventare nessuno questo è uno schema di impianto come si vede per arrivare a questi risultati è un impianto molto complesso per capirci io qui ho un turbogas e sfrutto l'energia dei fumi scaricati a temperature dell'ordine di 5-600 gradi per produrre vapore che poi viene utilizzato in turbine a vapore qui addirittura a tre livelli di pressione perché con tre livelli di pressione io riesco a inseguire l'andamento della riduzione di temperatura del gas cioè tanto si raffredda raffreddano i fumi del gas e tanto io riesco mano a mano a produrre vapore a varie temperature quindi questa è un'innovazione certamente importante ma quella forse più bella è il fotovoltaico potrei dire che il fotovoltaico è bellissimo è bellissimo perché un sistema statico trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica allora si sta sviluppando come sapete in maniera rapidissima e già sappiamo la riduzione dei costi che è stata impressionante e dall'altro lato il miglioramento dell'efficienza per capire quali innovazioni tecnologiche ci siano attualmente nel fotovoltaico basta pensare allo spessore attivo allora la cella in silicio monocristallino ha uno spessore di 150 micron per capirci il film sottile può scendere anche a 0,3 micron di spessore quindi un impiego di materiale che si è ridotto enormemente dal punto di vista dell'efficienza anche questo è un grafico molto complesso ma vi invito a seguirne solo alcune parti qui ricostruisce l'andamento dell'efficienza di varie tecnologie fotovoltaiche dal momento in cui si sono utilizzate inizialmente anni 70 ad oggi se noi vogliamo seguire quelle che conosciamo di più che sono i silici monocristallino e policristallino vedete che siamo a valori dell'ordine del 20 21 22% di efficienza tuttavia si può fare meglio anzi direi si può fare molto meglio perché perché esiste un limite all'efficienza legata al fatto che ogni singolo materiale sfrutta solo una parte della radiazione solare e allora si è riusciti a realizzare delle celle cosiddette multigiunzione dove la parte non sfruttata della radiazione solare viene sfruttata da un altro materiale il Guinness dei primati è attualmente il 46% cioè il 46% della radiazione solare viene trasformata in energia elettrica questo con realizzazioni per adesso di laboratorio attualmente le realizzazioni commerciali si muovono attorno al 20 21% dall'altro lato però si muove anche con l'uso del materiale organico quindi non solo del silicio o di materiali simili per realizzare cosiddetti led organici che si possono utilizzare con spessori molto molto sottili tant'è che potrebbero essere integrati nelle finestre lasciandole pure in trasparenza o addirittura potrebbero lavorare soprattutto sull'infrarosso cioè sulla luce che per noi non è visibile lasciando passare per esempio la parte del visibile della radiazione solare ancora più interessante sono determinati materiali che potrebbero produrre un film sottile tramite un inchiostro quindi noi potremmo utilizzare un substrato qualsiasi realizzando la cella fotovoltaica come facciamo la stampa con getto di inchiostro di un foglio di carta e quindi riusciremo a produrre a bassissimo prezzo delle celle fotovoltaiche appunto con questa metodologia promettevo un altro impianto in corso di riduzione mi sto avviando la fine quindi non temete mi pare di essere dentro nei tempi ed è questa scuola superiore della Lucia di Vellai di Feltre che comprende una palestra quindi noi su questa scuola abbiamo un consumo energetico dovuto al riscaldamento al raffrescamento per determinati periodi dell'anno e un consumo molto importante di acqua sanitaria per le docce della palestra consumo che viene stimato addirittura di due metri cubi al giorno quindi è un consumo molto importante allora vediamo come si è pensato di operare anzitutto di fare questo NZEB questo è un brutto acronimo che vuol dire Near Zero Energy Building cioè un edificio quasi energia zero allora per fare questo si deve fare un progetto in cui si fa un ottimo isolamento per cui nel progetto si passa da un consumo annuale di 329 kilowattora per metro quadro all'anno che tiene conto badate bene comunque anche in parte del uso di acqua sanitaria a 41 poi c'è però il discorso dopo aver ridotto l'energia termica il più possibile di far funzionare gli impianti con la maniera più efficiente possibile e infine di produrre energia termica elettrica direttamente in loco quindi non utilizzare se non in minima parte energia dall'esterno quindi per esempio dalla rete elettrica a questo scopo ci aiuta molto il PVT che roba è il PVT allora il PVT è il fotovoltaico congenerativo allora forse vi sarete chiesti nel momento in cui la cella solare trasforma il 18% della radiazione solare in energia elettrica il resto dove va il resto bisogna dissiparlo anzi bisogna dissiparlo bene perché più alta la temperatura superficiale della cella e più si riduce il rendimento allora l'idea del fotovoltaico congenerativo è di sfruttare almeno in parte la parte termica quindi abbiamo un pannello ibrido questi sono dei pannelli che abbiamo provato alcuni anni fa nella sede qui di Vicenza in cui si produce energia elettrica dallo stesso pannello anche energia termica questo permette da un lato di sfruttare questa energia termica e dall'altro di aumentare anche l'efficienza elettrica di conversione del pannello fotovoltaico allora niente paura vi mostro un po' la logica di questo impianto cerchiamo di capire cosa c'è in mezzo allora a destra ci sono le utenze riscaldamento raffrescamento acqua calda per le docce in mezzo c'è il cuore dell'impianto c'è una pompa di calore la pompa di calore è un compressore che è alimentato da energia elettrica deve prelevare energia termica a basso livello di basso valore dalla sorgente source e il condensatore cede questa energia elettrica al cosiddetto pozzo termico poi andiamo qui sulla sinistra ci sono dei moduli fotovoltaici dei moduli fotovoltaici cogenerativi i moduli fotovoltaici forniscono energia elettrica quelli cogenerativi forniscono sia energia elettrica che energia termica poi cosa c'è? beh c'è il sole ovviamente che è l'elemento che ci darà l'energia e il terreno ora vediamo l'energia elettrica prodotta da entrambi i tipi di moduli vanno a alimentare il compressore dall'altro lato l'energia termica che è fornita dai moduli fotovoltaici cogenerativi vanno a alimentare l'evaporatore cioè la sorgente della pompa di calore che quando non c'è il sole o ce n'è poco prende l'energia dal terreno eventualmente il terreno prende il surplus di energia quando ce n'è troppa ecco quando c'è bisogno di raffrescamento è evidente che l'energia del raffrescamento va all'evaporatore della pompa di calore quindi l'energia della pompa di calore e però al tempo stesso noi possiamo fare se è bisogno contemporaneo di riscaldamento e raffrescamento facciamo il riscaldamento o comunque facciamo con pompa di calore il riscaldamento dell'acqua sanitaria che comunque potrebbe sfruttare l'energia termica del fotovoltaico cogenerativo e di fatto lo farà nei mesi più caldi direttamente e quindi a questo punto chiudiamo la partita nel senso che quando c'è un surplus di energia termica dalla pompa di calore questa va direttamente al terreno ecco questa è la descrizione dell'impianto spero sufficientemente chiara anche se è stato molto conciso e questi sono i risultati che ci aspettiamo allora noi confrontiamo l'impianto con l'impianto tradizionale questo impianto praticamente richiede per funzionare 23.695 kilowattora di energia elettrica che è praticamente autoprodotta quindi è all'interno del sistema ne deve prendere un po' dall'esterno perché nei mesi più freddi nei mesi invernali quando non c'è sole c'è bisogno di circa 5.000 kilowattora di energia e però nei mesi di mezza stagione nei mesi più caldi ne produce in eccesso cioè ne produce 13.645 kilowattora che possono essere dati o dati alla rete o dati ai difficili mitrofi che appartengono a quel plesso scolastico quindi praticamente autoprodotti sono 37.000 kilowattora se noi andiamo a confrontare l'impianto tradizionale pur con l'edificio così ben isolato richiederebbe comunque 22.405 kilowattora di riscaldamento questo è il costo relativo al gas e 3.525 di energia elettrica per farla breve se noi abbiamo i valori complessivi finali adesso vado a leggermi di qua da un lato abbiamo costi annuali di 983 euro ma guadagni di 7.468 dall'altra parte ovviamente guadagni non abbiamo abbiamo solo costi che sono 5.186 quindi questo è un po' il nocciolo di questo impianto dimostrativo che speriamo si riesca a realizzare infatti l'impianto diciamo soddisfa tutti i fabbisogni dell'edificio abbassa il consumo di energia di circa 10 volte da 90 tepp a 10 tepp e peraltro questa energia è praticamente autoprodotta dall'impianto quindi lo rende indipendente da fonti energetiche non rinnovabili addirittura arrivando a fornire energia ad edifici vicini o fornire energia alla rete detto questo andiamo alla conclusione io ho due considerazioni da fare che non sono considerazioni tecniche ma sono di buon senso che come ricorda qui non è poi così comune il buon senso allora sviluppo tecnologico nel settore automobilistico consente di produrre vetture che nel ciclo misto consumano da 2 a 3 litri per 100 km eccolo qua questa è una vettura cos'è una novità no è una concept car realizzata dalla Fiat nel 2000 in 10 esemplari motore turbo diesel 16 valvole da 61 cavalli con tecnologia common rail sapete la tecnologia common rail è nata in Fiat poi hanno avuto la generata di vendere il brevetto ai loro concorrenti la vettura raggiunge i 160 km all'ora autolimitata ha un'accelerazione tutto sommato neanche male consuma 2-8 litri per 100 km come sapete bene si sono guardati bene da produrre e proporre macchine di questo genere allora possiamo dire che lo sviluppo tecnologico però consente di produrre vetture di questo tipo non sono queste quindi il rischio qual è che noi usiamo lo sviluppo tecnologico per far viaggiare delle vetture che consumerebbero 20 litri e invece ne consumano solo 14 e quindi possiamo subito dire che per essere tecnologico non è sufficiente garantire risparmio energetico ma c'è un'ultima considerazione che vorrei fare che a volte ci si dimentica come un gesto semplicissimo permette senza praticamente tecnologia di risparmiare energia ben essere immutato eccolo qua è una cosa particolarmente difficile io sono convinto che quando ci sono gli studenti qui e me ne vado dal dipartimento se vado nei bagni le luci sono accese sono le luci perpetue e quindi posso concludere che per questa dimensione triplice ambientale sociale economica lo sviluppo sostenibile necessita di mutamenti nei comportamenti individuali e quindi il risparmio energetico che deriva dai comportamenti individuali è tanto importante quanto quello consentito dalla tecnologia professore ringrazio tantissimo per questa lezione magistrale che sicuramente gli addetti ai lavori hanno compreso nella sua interezza per chi è profano come me però è stato un grande arricchimento e susciterebbe tantissime domande ma ma proprio tante ecco tornando ne faccio solo una velocissima a parte la sua iniziale riflessione sulla necessità di chiudere il cerchio no e che è fondamentale e quindi si lega molto bene anche a quello che abbiamo detto in premessa sulla sul valore della conoscenza che è un valore primario appunto a proposito della prima parte della relazione mi pare che lei abbia mi sono scritta almeno che lei abbia di striscio detto che le rinnovabili sono ancora marginali e quindi volevo chiederle proprio facendo riferimento a certi così dibattiti che ci sono rispetto al nucleare cosa e alla posizione dell'Italia e alla situazione in Italia volevo così se ci diceva qualcosa su questo e poi un'altra domanda velocissima ma perché ha citato libri scritti 40 anni fa che avrebbero prodotto risultati significativi ha citato auto che da vent'anni potrebbero portarci a un consumo molto contenuto ma perché tutto questo si ferma la parola magari ad altri soci se poi vuole o se preferisce no lasci pure raccoglio le domande grazie chi c'è Luca e Armando che cominciano a muoversi prego si faccio intanto ringrazio il professore per la sua chiarezza espositiva e per la per la sua capacità di arrivare direttamente a tutti quanti nel cogliere il significato di quello che ha detto al di là del fatto che lei l'ha ribadito più volte che una delle vie è la buona prassi quotidiana per ciascuno di noi dell'uso dell'energia e la buona prassi dei sistemi politici amministrativi nel realizzare norme che permettano di andare verso un equilibrato mix fra consumo e sviluppo che ci permettano di continuare lungo la strada dello sviluppo tecnologico e quindi anche dello sviluppo del mondo cosa ne pensa anche anticipato un attimo fa Maria Chiara delle possibilità che il nucleare pulito pulito ovvero la fusione nucleare possa dare qualche risultato in tempi brevi che stiamo aspettando da tantissimo ma fino adesso non si vede nulla di tangibile e cosa ne pensa del fatto che seppure l'energia fotovoltaica lei ci ha detto prima i rendimenti attuali commerciali sono dell'ordine del 20% possa essere utilizzata con estensioni enormi di pannelli fotovoltaici che potrebbero coprire le aree desertiche o potrebbero coprire in alcuni casi si sta anche ipotizzando superfici di mare raccogliamo qualcosa oppure comincio a rispondere ancora una domanda io anch'io mi complimento tanto con la sua relazione come tecnico naturalmente come Luca ho apprezzato molto i diagrammi di quello che lei ha detto per noi come mangiare la popolata quando vediamo quelle cose ci emozioniamo è venuta in mente una cosa dal punto di vista appunto del comportamento degli uomini 45 anni fa il mio direttore generale era stato a Pecchino e gli ho chiesto qual è la cosa che mi ha impressionato di più le biciclette ci sono milioni di biciclette che vanno da una parte e milioni vanno da una parte e gli dicevano perché non si mettono d'accordo rimangono tutti a casa con le biciclette e lavorano nel loro ambito senza aspettarsi ora quelle biciclette sono diventate macchine e questo è un problema credo di organizzazione del lavoro e penso che si possa incidere molto anche sullo spostamento di noi umani nella organizzazione del lavoro un'altra cosa che avevo accennato all'inizio è l'idrogeno che lei ha trattato evidentemente o perché non è attento o perché non le piace ecco questa è un po' la mia domanda grazie allora il nucleare non è una rinnovabile perché i tempi di esaurimento sono simili o inferiori a quelli dei combustibili fossili hanno provato a farla semirinnovabile con i reattori autofertilizzanti nei quali sapete che la percentuale diciamo maggioritaria dell'isotopo dell'uranio che è il 238 passa in parte a plutonio 239 che è un materiale fissile però i reattori autofertilizzanti hanno fatto investimenti colossali pensiamo in Francia fra l'altro con il contributo dell'Italia e poi è inchiuso tutto perché c'erano problemi tecnologici enormi difficoltà grossissime dal punto di vista realizzativo problemi di sicurezza problemi di gestione di scorie a quel punto c'è il problema delle scorie il problema nucleare non è l'incidente che per carità può capitare e può essere anche estremamente grave pensate Fukushima ma sono le scorie allora noi qua ci troviamo a avere dei quantitativi di scorie che sembrano molto modesti ma che hanno un problema che hanno un tempo di dimezzamento di 24.400 anni e nessuno sa che cosa farne esattamente pensate che gli Stati Uniti che sono i primi che hanno fatto i reattori nucleari a un certo punto avevano pensato di fare un deposito di scorie perché l'unica idea che è venuta in mente è fare un buco e metterle lì e metterci un cartello guardate che pericoloso avevano realizzato nella riserva indiana a Yucca Mountains queste enorme depolite di scorie e poi hanno dovuto rinunciare per cui le scorie nucleari sono tutte quante nelle zone delle centrali e nessuno sa cosa farne quindi io sono ben contento che già abbiamo dei grossi problemi a disfarci delle scorie prodotte dalle poche centrali che sono state in funzione in Italia fino all'86 e sapete ci sono ancora e di mezzo c'è un ente che si chiama Soji che esattamente cosa faccia non lo so però ha un migliaio di dipendenti e si occupa praticamente quasi esclusivamente di queste scorie nucleare quindi io non vedo grandi possibilità da questo punto di vista tant'è che la Germania mi sembra che lo stia abbandonando nucleare così fa il Giappone la Francia se ne guarda bene ma in realtà ha dei grossi problemi nel senso che le loro centrali nucleari stanno andando a fine vita quindi dovranno a un certo punto smantellare le più vecchie e non vorrei che le mettessero in conto ai conteggi europei ai conti europei perché costerà un sacco di soldi per quanto riguarda la fusione è un sogno però non vedo progressi io ne leggevo quando ero ragazzo e ho continuato a leggerne e purtroppo progressi non ne vedo quindi forse sarebbe stato meglio soffermarsi su tecnologie sperimentate quelle che ho descritto nei libri scritti negli anni 80 o così e sfruttarle utilizzarle piuttosto che perdere un bel po' di investimenti in questi sogni la domanda sull'idrogeno allora la domanda sull'idrogeno è una domanda interessante anche perché aspettate che interrompo la condivisione io ho avuto proprio un laureando che stava studiando l'uso di celle a combustibile sui ciclomotori pensate un po' quindi si parla di ricerche che si facevano fine anni 90 primi 2000 e era molto promettente dal discorso perché sapete la cella combustibile è un dispositivo statico che trasforma direttamente l'energia dell'idrogeno in energia elettrica con rendimenti con rendimenti molto di fatto la cosa è stata seguita anche da molte aziende automobilistiche che hanno realizzato autobus con celle a combustibile autoveicoli e celle a combustibile poi è stata abbandonata e sembra che si vada a preferire viceversa l'auto elettrica con batterie che mi lascia un po' perplesso perché io non ho ancora capito come faranno smaltire le batterie quando ci saranno milioni e milioni di batterie mi domando se hanno pensato come eliminarle o come riciclarle perché di questo ancora non si sa nulla e per l'idrogeno è chiaro che sarebbe stata necessaria una rete di distribuzione di idrogeno che è un gas non facile da maneggiare e che comunque non esiste come tale in natura quindi dovrebbe essere ricavato ma questo si può fare con una serie di processi elettrochimici e potrebbe essere una possibilità che mi pare è stata messa un po' in disparo ringrazio ancora da parte di tutti per questa serata per questo intervento così qualificato speriamo di avere altre occasioni in nome appunto delle radici bellunesi che abbiamo ricordato all'inizio e zoldane e metà e metà mi pare appunto ci siamo detti un caro saluto a tutti ancora un particolare ringraziamento e buona serata bene buona serata anche a voi grazie professore grazie professore un saluto a tutti grazie grazie un saluto a tutti ciao ciao a tutti grazie a tutti buona serata grazie ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti grazie a tutti